Quella che ha sconvolto la Repubblica Democratica del Congo è un'immane tragedia umanitaria. I combattimenti tra l'esercito congolese e le milizie ribelli, a dispetto dell'accordo di pace legato al governo di transizione, hanno causato più morti di tutti i conflitti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dal 1998 più di 4 milioni di individui sono morti per malattie operati di guerra oppure sono spariti senza lasciare tracce. La Comunità Internazionale di Soccorso stima che ogni giorno 1200 persone perdono la vita direttamente o indirettamente a causa della guerra. I bambini rappresentano più della metà delle vittime. Inoltre sono spesso i testimoni di gravissime atrocità quando non sono costretti a parteciparvi e questo comporta gravissimi traumi fisici e psichici. Malgrado i fatti, la guerra in questa terra sembra essere ampiamente dimenticata. Gli orrori che la caratterizzano sembrano non destare più alcuna indignazione. Nessuna testata giornalistica se ne occupa da tanto, da troppo tempo. Ci si nasconde dietro alle difficoltà per gli operatori di raggiungere le zone maggiormente martoriate poiché troppo insicure. Zona di ricreazione del Pansi Project Le donne, dopo essere state curate dal punto di vista organico, hanno la possibilità di ritrovare il loro equilibrio psichico usufruendo dello spazio ricreativo che permette loro di affrontare insieme le giornate, lavorando, chiacchierando, confrontandosi, cantando e danzando, comunque ritrovando la voglia e il piacere di vivere. Il Pansi Hospital rientra in un progetto dell'UNICEF che provvede al supporto clinico e psicologico delle donne sopravvissute a violenze sessuali. Nel Congo, devastato da una lunga ed atroce guerra dimenticata, la violenza sessuale viene utilizzata scientemente come arma di guerra al fine di umiliare, intimidire, piegare famiglie, se non comunità intere, per arrivare ad imporre alleanze forzate. Le violenze di gruppo, le mutilazioni, le violenze commesse introducendo oggetti nei genitali sotto gli occhi dei familiari, di bambini, di amici, sono all'ordine del giorno. Inoltre, le donne che subiscono tali violenze spesso vengono ripudiate dalle loro stesse comunità di appartenenza. Si può ben capire in quali condizioni queste povere donne possano versare. I danni riportati vanno da quelli fisici, per fare un esempio, quante di loro sono portatrici di fistole e vescicovaginali da trauma, cui consegue incontinenza quale danno minore, ai gravissimi danni psichici che inesorabilmente seguono le esperienze di violenza. Non parliamo poi della seropositività all'HIV, ormai considerato virus da guerra. L'UNICEF supporta un secondo progetto destinato sempre alle donne vittime di stupri. È una clinica mobile che provvede a prestare le dovute cure nelle diverse aree di residenza. Dall'agosto 2005 al marzo 2006, l'unità mobile ha assistito 1982 vittime. Dall'aprile 2005 all'aprile 2006, il Pansi Hospital ha ricoverato 3548 vittime. Provvede al supporto psicologico di 2928 donne. Tra le vittime si contano 370 ragazze di età inferiore ai 18 anni. 2.129 sono sposate, 302 sono state ripudiate dalle loro famiglie, 531 sono vedove e 587 sono nubili. 3.159 donne sono state testate per l'HIV e tra loro 112 sono risultate seropositive. Si ringrazia per la realizzazione di questo servizio il personale dell'ospedale di Pansi, in particolare il dottor Muckweghe, responsabile del progetto che ci ha accolto. L'infermiera professionale signora Vivinne che ci ha accompagnato, le chef de bureau Unicef di Bucavo, Matteo Frontini, ma soprattutto le donne che dopo aver vissuto l'inferno della violenza continuano a credere e a lottare per far sì che tutto questo non si ripeta mai più e che la speranza di una vita migliore non si spenga. Unicef di Bucavo, Matteo Frontini, Unicef di Bucavo, Matteo Frontini, Unicef di Bucavo, Matteo Frontini, Unicef di Bucaro, Matteo Frontini, Unicef di Bucamas, Matteo Frontini, come farò e poi morì.